Il concetto di questa giornata formativa è proprio di aumentare le nostre conoscenze, le nostre esperienze sul vivo, di scambiarci le idee sul nuovo, perché le esigenze dei pazienti di oggi sono sempre più importanti, più elevate. Visto che come in realtà riusciamo a offrire una diagnostica completa al minuto e il trattamento definitivo subito, alcune ore dopo l'ultimo pasto, per noi questa è un'esigenza fondamentale, saper trattare al meglio tutte le lesioni dello sportivo traumatizzato. E in occasione di questo siamo riusciti a organizzare assieme ai responsabili dell'Artrex Nord Italia, assieme ai responsabili dell'Iclo questa splendida giornata, formazione super specialistica sull'argomento di varie patologie da spalla, qui da noi a Ortisei, con illustri relatori internazionali e non solo d'Italia. Grazie a tutti! Grazie a tutti!